Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovate al consueto appuntamento con il Tg10, l'apertura del telegiornale anche oggi è dedicata ad un'ampia pagina della politica, terremoto in casa del Movimento 5 Stelle. Ieri sono stati ufficializzati dal sindaco di Gela Domenico Messinese i nomi dei tre nuovi innesti in giunta. Abbiamo incontrato i neoassessori, sentiamo. Licia Abela, Eugenio Catani e Flavio Di Francesco sono i tre nuovi assessori comunali di Gela chiamati dal sindaco Domenico Messinese a sostituire Chetti Damante, Pietro Lorefice e Nuccio Di Paola. Licia Abela, 32 anni, sposata madre di una bimba e il nuovo componente dell'esecutivo a cui sono state affidate le deleghe ai servizi sociali e all'istruzione. Laureate in scienze dell'amministrazione, il neoassessore presentò una tesi in sociologia del territorio sullo sviluppo di Gela. Una città che amo, nella quale sono nata e nella quale vivo da quando sono nata e quindi ho una grande voglia di mettermi in gioco, di cominciare a mettere all'opera tutto quello che mi sarà consentito di fare. Soprattutto la cosa che mi preme è quella di mettere il cittadino al centro dell'attenzione per quello che sono appunto i miei settori, cercare di cominciare a doliare bene la macchina amministrativa affinché tutti insieme possiamo formare una squadra che possa funzionare e dare le risposte che la città merita di ricevere. 41 anni, software engineer della ST di Francesco, è sposato ed è padre di quattro bambini. Lavori pubblici e decoro urbano sono le deleghe assegnategli dal sindaco. Lo faccio con spirito di abnegazione soprattutto per la città perché anche il mio impegno durante la campagna elettorale perché ero candidato alle ultime amministrative era solo alla luce del bene della città e dei cittadini. Gela ha tanto bisogno e il mio ruolo sarà quello di cercare a tutti i costi di reperire fondi dalla comunità europea perché senza quelli chiaramente i lavori pubblici non potranno andare avanti. Quindi il mio obiettivo sarà solamente quello, cercare di far lavorare al meglio quelli che sono gli uffici di competenza e i vari settori. Eugenio Catania ha 32 anni, è laureato in giurisprudenza, ha conseguito un master in economia all'Università di Palermo e condotto un'esperienza in Spagna nell'ambito del progetto Erasmus. Lavora come legale ed è noto in città come blogger. Le sue deleghe saranno quelle al controllo del territorio, sport ed eventi. Mi affaccio a questo incarico con grande entusiasmo, sono molto orgoglioso della scelta che è stata riposta nella mia persona da parte del sindaco. Cercheremo insieme con i dipendenti del settore che andrò a dirigere, di cercare di fare il meglio per la nostra comunità. In particolare per quanto riguarda la Polizia Municipale, che è un settore che conosco bene essendo stato dipendente della Polizia Municipale in passato. Cercheremo di dare alla città la risposta riguardo la sicurezza che è molto richiesta in questo periodo, insomma in tutte le comunità italiane, in tutte le cittadine italiane. Arriva immediata all'indomani della presentazione da parte del sindaco dei nuovi tre assessori la risposta dei consiglieri comunali pentastellati. Vincenzo Giudice, Simone Morgana, Virginia Farruge e Angelo Amato, congiuntamente ai tre ex assessori Pietro Lorefi, Cenuccio Di Paolo e Chetti Damante. Vediamo. Conferenza stampa fiume questa mattina a Palazzo di Città, Gela dei quattro su cinque consiglieri comunali pentastellati e dei tre assessori sostituiti ieri dal sindaco con tre nuovi innesti. Rompono gli argini i componenti del Movimento 5 Stelle presenti e come un fiume in piena dicono quello che pensano sull'attuale azione amministrativa posta in essere dal sindaco Domenico Messinese. Il capogruppo consigliare pentastellato Vincenzo Giudice e il grillino Simone Morgana. Dopo gli ultimi sviluppi sicuramente da oggi noi prendiamo la distanza da questa amministrazione anche perché il metodo utilizzato da questa amministrazione negli ultimi sei mesi in cui è in carica non è in linea con quello del Movimento 5 Stelle. In quanto il Movimento 5 Stelle significa partecipazione anche politica dei cittadini e partecipazione politica di tutti i consiglieri a maggior ragione perché il sindaco, la giunta e i consiglieri sono quelle persone che poi comunque fanno la politica, cosa che a noi purtroppo non risulta. Dal momento in cui il sindaco è stato eletto in questi sei mesi i consiglieri non abbiamo avuto modo di partecipare alla vita politica di questa città. Noi continuiamo comunque a lavorare su quello che è stato il programma che abbiamo proposto ai cittadini. Io sono un portavoce eletto del Movimento 5 Stelle e questa città ha scelto il Movimento 5 Stelle quindi porteremo passo passo avanti tutti quelli che sono i passi del programma. Se il sindaco messinese che ha dichiarato di poter anche rinunciare al simbolo del Movimento 5 Stelle vuole portare avanti quelli che sono gli atti del programma, ben vengano, chiaro che noi non potremo assolutamente tirarci indietro. Ma se continuerà con la politica che finora ha utilizzato di allontanamento dal programma dei 5 Stelle, di allontanamento dalla volontà e dal mandato elettorale, chiaro è che non avrà un sostegno da parte del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. E sentiamo le dichiarazioni degli ormai ex assessori dell'Aggiunta messinese, Lorefice di Paola e Damante. Dicono la loro i tre ormai ex assessori dell'Aggiunta 5 Stelle di Domenico messinese. Non le mandano a dire Pietro Lorefice, Chetti Damante e Nuccio di Paola. Sono durissime le dichiarazioni degli amministratori licenziati e Pietro Lorefice si scusa con la cittadinanza indotte in errore a votare l'attuale sindaco. Il sindaco ha cercato soltanto delle scuse per poter buttare fuori i tre assessori che da sempre hanno cercato dialogo, confronto e si sono, come si suol dire, imposti all'interno dell'Aggiunta cercando di far uscire che cosa? Dietro a seguito di una dialettica politica, un confronto a volte anche con toni decisi ma far uscire fuori degli atti condivisi. Questo sindaco e l'attuale Giunta non sanno neanche lontanamente cosa significa confronto politico. Il sindaco messinese in particolare preferisce solo gli yes men. I tre assessori che sono usciti non lo sono mai stati e perciò il prezzo che ne hanno pagato è questo. Ma la città si è resa conto e si renderà conto anche in avvenire. Mi dispiace aver portato e mi sento la colpa e mi scuso con la città per aver indotto in errore tanti cittadini che anche grazie alla mia faccia hanno votato questo sindaco. Sicuramente remavamo contro alcuni atti del sindaco messinese proposti nell'ultimo periodo in Giunta, decisamente sì, remavamo contro. Io speravo in maniera democratica all'interno di un organo collegiale che forse questo sindaco non sa neanche cosa significa letteralmente e formalmente parlando. Una Giunta decide politicamente e prende atti amministrativi in forma collegiale, non in forma singola. Non è un sindaco, io non ero al servizio del sindaco. Io sono un assessore, sono stata nominata assessore perché Movimento 5 Stelle e dunque che è con lo spirito che connota il Movimento 5 Stelle, partecipazione e condivisione dei progetti politici. I portavoci regionali e nazionali sanno delle politiche che si stanno attuando qui a Gela. Non è Nuccio Di Paola a decidere se questo sindaco è da Movimento 5 Stelle o meno. Io posso dire solo una cosa, che ci sono centinaia e centinaia di attivisti italiani, di persone che ci mettono ogni giorno la faccia dietro questo simbolo. E se nelle idee questo sindaco e questa amministrazione non condivide questo simbolo, allora è giusto che il simbolo venga tolto. Oggi il sindaco ci dice che non ci siamo adeguati a che cosa? Al suo pensiero? Ad un pensiero unico che non vede assolutamente quello che oggi la città sta vivendo giorno per giorno? Abbiamo chiesto, e il Consiglio Comunale l'ha fatto anche come emozione, la riduzione degli stipendi, visto il periodo che sta passando Gela. Il sindaco a questo non ha mai risposto e non si è mai confrontato su politiche importanti per quanto riguardano la città che sono i rifiuti e sono le politiche industriali. Ad oggi la città è all'oscuro di tutto ciò, o meglio, gli è stato comunicato un qualcosa ma a cose già decise. E lasciamo la politica, siamo alla cronaca. Poco prima dell'una della scorsa notte le fiamme si sono sviluppate in piazza Eleusi nella zona di Scavone. Un incendio ha distrutto l'Opel Corsa di un 68enne sul posto oltre i vigili del fuoco. Sono arrivati anche gli agenti di polizia delle volanti. Il rogo sembra di origine dolosa, le fiamme hanno avvolto interamente la vettura. Ovvieremo in tempi brevi i disservizi causati dai ritardi accumulati nell'attivazione di nuove utenze di Enel e la distribuzione grazie all'unificazione delle richieste urgenti pendenti e la semplificazione dei procedimenti per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali della città da parte dei concessionari del sottosuolo in accordo a quanto già messo in atto dal dirigente comunale Santi Nicoletti. Lo ha dichiarato il vice sindaco di Gela Simone Siciliano dopo aver incontrato nel suo ufficio di Viale Mediterraneo il responsabile della divisione infrastrutture e reti qualità processi dell'area sud Ludovico Russo. In attesa di nuove norme all'onerosa tassa di manomissione ha spiegato l'assessore sostituiremo una richiesta di autorizzazione con allegata scheda tecnica facendo affidamento sulla polizza fideiussoria che ci lega ad Enel. Non possiamo fermare investimenti rilevanti come quelli previsti per l'elettrificazione di aree periferiche come Manfre a causa di un regolamento in vigore a Gela inadeguato per le necessità del territorio che risulta palesemente scopiazzato da quello di una realtà urbana diversa come Torino. Siciliano nel corso dello stesso confronto ha posto ad Enel distribuzione questioni come quelle relative agli interventi di manutenzione sulle reti di distribuzione di energia elettrica da contestualizzare con le esigenze delle attività commerciali ad un regolamento d'esercizio per la rete pubblica promiscua alla disalimentazione di una scuola su cui sono in corso dei lavori di pubblica utilità. All'incontro hanno preso parte anche l'assessore comunale al bilancio Fabrizio Morello e il dirigente comunale Santi Nicoletti. Fino al prossimo 15 gennaio al protocollo generale del Comune di Gela ultra 65 anni e portatori di handicap gravi possono presentare domanda per accedere al servizio di assistenza domiciliare mediante voucher sociale. I requisiti che devono possedere i richiedenti sono stati pubblicati nell'avviso pubblico diffuso dal settore servizi sociali. L'apposita istanza poi corredata da diversi allegati è scaricabile online dalla sezione avvisi pubblici e modulistica del sito ufficiale del Comune di Gela ed è disponibile anche all'ufficio di segretariato sociale di Viale Mediterraneo. La partecipazione al costo del servizio dipende dalla situazione economica complessiva determinata dall'ISEE. Cambiamo ancora argomento. La tua stella di solidarietà è l'iniziativa di beneficenza promossa anche quest'anno dall'associazione anti-racket e anti-usura Gaetano Giordano di Gela preseduta da Renzo Caponetti. Sentiamo. Caponetti, torna quest'anno la tua stella di solidarietà è un'iniziativa dell'associazione anti-racket e anti-usura che ha ovviamente delle finalità benefiche cioè sostenete delle famiglie indigenti che sono state selezionate dalla parrocchia Santa Lucia di Gela dall'associazione Gela Famiglia e dall'associazione Il Tempio di Apollo dove sarete e come i cittadini possono collaborare? Sì, noi come ogni anno non ci siamo dimenticati di aiutare le persone più bisognose però dai risparmi negli anni passati dove una volta si pagava abbondantemente il pizzo perché non devolverlo alla gente che ha bisogno e soprattutto se ce n'è tanta quindi cerchiamo di coinvolgere tutta la cittadinanza ci collaborano come sempre le forze dell'ordine con noi saranno presenti la Polizia di Stato i Carabinieri, la Guardia di Finanza la Capitaneria di Porto, la Polizia Penitenziaria quindi tutti insieme appassionatamente cercheremo di far passare almeno alla fine dell'anno un po' più serena per le famiglie più bisognose Chiunque lo volesse domani dalla mattina dalle 10 del mattino fino alle 8 della sera potrà conferire, quindi portare generi di prima necessità presso la vostra sede ambulante che sarà piazzata in Piazza Umberto I Ci sono quattro stand tutto questo l'abbiamo fatto con il patrocinio del comune di Gela quindi in questi quattro stand saranno utilizzati proprio per Gela Famiglia dove esporranno i loro prodotti i loro centrini tutte le cose che riescono a fare per i bambini e la stessa cosa nello stand della parrocchia di Santa Lucia esporranno i loro prodotti e noi nel nostro stand dell'associazione Andiracchete promuoveremo, come facciamo ogni anno, il consumo critico Caponetti, siamo ormai alla fine dell'anno se dovesse tracciare un bilancio delle attività del 2015 che bilancio traccerebbe? E come vanno i lavori di ristrutturazione in sede? Allora, per quanto riguarda il nostro bilancio dicono, lo dicono gli altri, che è stato molto positivo abbiamo già raggiunto un notevole numero di imprenditori e commercianti che hanno denunciato siamo già a quota 167 quindi i risultati ci sono stati per ultimo con l'operazione Redi Vivi che è stata veramente una cosa eccezionale per quanto riguarda la ristrutturazione della sede io penso che entro metà gennaio o fine di gennaio al massimo già la nostra sede sarà pronta sarà completamente diversa e avremo in più anche una sede per convegni gennaio inizierà con una proposta mirata a rendere trasparente il sistema degli appalti pubblici proporremo al sindaco e alla sua giunta un protocollo di legalità degno di questi tempi nel quale il comune avrà le sue responsabilità lo scrive in una nota inviata alla stampa il segretario generale della CGL, Ignazio Giudice non è normale che il comune non saldi subito le fatture presentate così come è successo prima di Natale per il servizio raccolta rifiuti a pagarne le conseguenze sono stati i lavoratori che hanno ricevuto soltanto un piccolo acconto dopo l'intervento della CGL altrimenti nel silenzio assoluto neppure quello non è normale che il comune non controlli la corretta applicazione dei contratti alle lavoratrici degli appalti e delle convenzioni nel settore dei servizi sociali anche lì le cooperative lamentavano il pagamento e il ritardo delle fatture e usano ciò come motivazione per dare gli stipendi in ritardo non è normale a distanza di tre mesi dalla scadenza non far ripartire servizi di assistenza agli anziani e agli inabili non è normale non avere la refezione scolastica malgrado solleciti sin dall'estate non è normale avere la GELAS dalla salute incerta sono le 5 questioni che restano aperte la CGL a gennaio su queste questioni annuncia sin d'ora una grande mobilitazione della città se non si dovessero risolvere il primo banco di prova leggiamo ancora nel documento è il pagamento delle mensilità di novembre e dicembre lavoratori della Tecra entro il 10 gennaio così a seguire tutti i servizi bloccati dei quali abbiamo già notiziato al prefetto quei servizi occupano 500 lavoratori e sono fondamentali per l'economia della città oltre che ovviamente per gli assistiti il protocollo di legalità che si propone di misurare il coraggio la coerenza e la libertà di chi ha parlato di onestà che dovrebbe essere la condizione preliminare per occuparsi di bene comune una ovvietà da non sbandierare per esempio gli imprenditori che negano i diritti ai lavoratori sono disonesti e andrebbero gettati fuori questo fanno gli onesti e questo rivendica la CGL concluda il sindacalista della CGL anche a Gela botti di fine anno al bando il sindaco Domenico Messinese ha firmato un'ordinanza in cui vieta l'uso di petardi e altro materiale pirotecnico su tutto il territorio comunale di competenza l'atto mirato a salvaguardare l'incolumità di persone, animali e cose è stato trasmesso a tutte le forze di pulizia ci fermiamo c'è la pubblicità torniamo tra poco restate con noi bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale bando di selezione per tre operatori socioassistenziali di sesso femminile lo è indetto il primo circolo didattico di Gela diretto da Adriana Quattroocchi le domande devono essere presentate entro le ore 12.30 del 31 dicembre prossimo non farà fede il timbro postale per informazioni 0933 90 11 34 uno spettacolo per bambini presso la casa del volontariato a Gela ieri ha conquistato grandi e piccini c'eravamo anche noi vediamo la casa del volontariato ha ospitato ieri lo spettacolo teatrale per bambini Ansel Gretel e il segreto della strega l'obiettivo è stato quello di offrire occasioni educative di alto livello per i bambini e le loro famiglie lo spettacolo ha proposto una divertente riflessione sulle dinamiche relazionali tra fratelli e il rapporto con le persone anziane in scena Emiliano Longo e Iridiana Petrone anche autrice dei testi e regista dello spettacolo le musiche originali sono di Giuseppe Nicolosi e le scene di Tiziana Rapisarda l'associazione culturale Nave Argo di Caltagirone collabora per la prima volta con la casa del volontariato di Gela un'esperienza sicuramente riuscita che speriamo di ripetere con profitto vista la grande partecipazione e l'entusiasmo dei bambini dei loro familiari per noi il teatro da vent'anni è un'esperienza formativa che crea formazione che crea comunità per la quale pensiamo possa essere importante continuare a fare queste esperienze La favola si intitola Ansel Gretel e il segreto della strega io ho curato la riscrittura del classico dei fratelli Grimm Ansel e Gretel e io ho voluto dare una chiave di lettura prettamente per i bambini un messaggio sull'importanza del fratello e della sorella quindi avere un fratello e una sorella l'importanza e le dinamiche di gelosia che molto spesso accadono in famiglia e soprattutto ho voluto mettere l'attenzione sul fatto che la strega è una persona che mantiene nel suo cuore uno stato di odio e cresce con questo stato con uno stato di odio di rabbia in questo caso di gelosia perché la strega di Ansel e Gretel il segreto della strega ha un segreto che è quello di essere scappata di casa di essere cresciuta nel cuore con una gelosia per la sorella minore per noi è un investimento importante perché significa in qualche modo che riusciamo a contagiare la città di un'esigenza importante l'esigenza è quella di educare questa città e il teatro attraverso le favole rappresenta un'occasione straordinaria per trasmettere dei valori in questo caso con lo spettacolo di Ansel e Gretel il valore della famiglia dei legami e su questo dobbiamo puntare per dare una svolta a questa città in termini educativi l'associazione SMAF sport, music, arte e folklore presieduta da Gaetano Davide Arizzi promuove il presepe vivente che sarà allestito all'interno di un circuito di antichi cortili del quartiere Canalazzo l'appuntamento è previsto per il 6 gennaio prossimo evento che porta a riscoprire una tradizione secolare come il presepe e valorizzare allo stesso modo luoghi sconosciuti del centro storico ma con tanto fascino il presepe oltre a rappresentare le classiche scene della natività andrà a ricostruire ambienti e spazi di lavoro che richiamano la tradizione storica del territorio all'ingresso del presepe al visitatore verrà chiesto un contributo simbolico di 3 euro che in parte verrà devoluto in beneficenza alla piccola casa della divina misericordia con il quale si avrà diritto alla consumazione tra una variegata scelta di prodotti tipici del nostro territorio l'orario di apertura al pubblico della manifestazione sarà dalle 19 alle 24 seconda mostra dei presepi presepi in comune realizzata dalle scuole locali e promossa dall'associazione turistica Proloco Gela potrà essere visitata a Palazzo di Città fino al 6 gennaio previsti intrattenimento e degustazioni l'ingresso è libero dalle 10 alle 12 e 30 e dalle 17 alle 20 e 30 la cerimonia di chiusura dell'evento è prevista per mercoledì 6 gennaio alle ore 17 e 30 saranno aperte altre due porte sante nella diocesi di Piazza Armerina in occasione del giubileo della misericordia lo ha annunciato il vescovo Monsignor Rosario Gisana a Gela il 6 gennaio presso la piccola casa della misericordia e a Enna presso il centro d'accoglienza Santa Lucia inoltre si potranno ottenere le indulgenze giubilari anche in occasione dell'apertura in ogni vicariato della Porta della Carità nelle cappelle delle carceri e degli ospedali presenti in diocesi e nei luoghi dove si terranno le catechesi sulle opere di misericordia corporali e spirituali Continuano gli appuntamenti col grande Giazza al Teatro Comunale Eschilo di Gela venerdì 8 gennaio Francesco Buzzurro e venerdì 29 gennaio Fabio Concato L'inizio degli eventi è previsto per le ore 21 per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20 per informazioni 0-933-911-892 oppure 3-4-5-5-8-8-0-5-8-0 Stagione teatrale di Cavarei 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela protagonisti degli eventi saranno Sergio Vespertino e Ernesto Maria Ponte lasciate libero Lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia Il botteghino rimarrà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30 prossimo spettacolo il 13 gennaio con Sergio Vespertino Continuano le manifestazioni inserite nel cartellone natalizio promosso dal comune di Gela fino al 6 gennaio nei locali di Palazzo Ducale mostra di presepi vita di Gesù di Francesco Bonvissuto fino al 10 gennaio pattinaggio su ghiaccio eventi mostra di presepi albero della vita nel piazzale della chiesa di San Rocco a Cantina Sociale sempre fino al 6 gennaio nel Palazzo Regina Margherita presepi artistici è stato allestito nella piazza San Francesco il presepe realizzato dalla parrocchia San Francesco d'Assisi con la collaborazione dei giovani del Movimento Giovanile e dal gruppo archeologici d'Italia Triskelion il presepe che è composto da elementi d'altezza uomo di matrice napoletana potrà essere visitato tutti i giorni fino al 6 gennaio continuano gli appuntamenti musicali inseriti nel programma Natale 2015 Capodanno 2016 organizzati dall'Associazione Amici della Musica Navarra di Gela presieduta dal maestro crocifisso Ragona domenica 3 gennaio prossima alle 19 è previsto il concerto dei migliori alunni dell'Istituto Musicale certificato Nova Gelas tutti i devoti che si accingono a preparare la tradizionale cena di San Giuseppe del 19 marzo prossimo dovranno recarsi presso la chiesa Sant'Agostino per potersi registrare lo hanno comunicato i padri Agostiniani è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione vi ricordiamo che notizie, approfondimenti e servizi sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato arrivederci grazie a tutti